Passiamo gran parte della nostra vita a immaginare, a sognare e poi a lavorare perché questi si realizzino. Lo cominciamo a fare fin da piccoli e poi per molti di noi, da cui il sottoscritto, lo continuiamo a fare anche in età adulta. Realizzare la nuova sede, molto spesso, è il concepimento di un sogno, che chi progetta e poi realizza, oltre ad avere in mente questo grande desiderio di chi abbiamo di fronte, deve portare in essere tutta la propria organizzazione, la propria conoscenza e la propria esperienza. Ho fondato il progetto Design & Build con il progetto CMR International per due grandi motivi. portare avanti quelli che erano gli obiettivi di sviluppo del gruppo e due perché sempre più spesso i clienti chiedevano di completare il ciclo della progettazione con quella realizzativa. Oggi noi sappiamo che ogni volta che lavoriamo con un cliente lui emette un obiettivo chiaro. Il suo obiettivo è realizzare gli spazi dei suoi sogni.